Con Luca Dini che è il presidente del Volley Club Alto Tevri, il settore giovanile della comune di San Giustino, domenica 23 di dicembre c'è la presentazione in grande stile al Palachemon di San Giustino. Oltre 120 bambini con le loro famiglie. Avete voglia chiaramente di far vedere quanto siete cresciuti in questi anni. Sì, diciamo che per l'esattezza siamo arrivati oltre i 160 bambini e bambine ovviamente. Sarà un'occasione per presentare la nostra società e oltre a quella sarà anche un'occasione per farci gli auguri con le famiglie dei nostri iscritti. Diciamo che siamo soddisfatti dei risultati raggiunti quest'anno che è un'ulteriore conferma della crescita della nostra società sia dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista qualitativo. Infatti abbiamo dei buoni piazzamenti nei vari campionati a cui partecipiamo. Avete deciso di tenere un profilo alto soprattutto per quanto riguarda i quadri tecnici. Tra i migliori allenatori della Valtiverina sono inseriti nel vostro staff? Sì, diciamo che siamo molto soddisfatti del nostro staff tecnico. Sono tutti degli allenatori molto preparati sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista umano in quanto comunque riteniamo che la pallavolo, comunque lo sport in generale, oltre che essere una palestra per imparare uno sport debba essere anche una palestra di vita. Quindi anche dal punto di vista umano i nostri allenatori sono molto preparati. Ultima domanda. Quanto è difficile in tempi di crisi fare sport e soprattutto farlo con un fine che è un fine sociale? Questa è la domanda. Ha una risposta molto ovvia. È molto difficile. È molto difficile in quanto si debbano, come in un'azienda, far quadrare tutti i bilanci. Dobbiamo fare una bella fatica in questo momento a reperire le risorse necessarie. Oltre al discorso economico bisogna fare anche funzionare bene tutta la macchina organizzativa, quindi i rapporti anche con l'amministrazione comunale. C'è da fare un bel po'. C'è da fare un bel po' di crisi.